Un corso di alta formazione per preparare una classe internazionale di giovani professionisti sui molteplici aspetti legati agli effetti della globalizzazione e alle relazioni internazionali. Questo è l'obiettivo del Master di primo livello in Governance Globale, Relazioni Interculturali e Gestione dei Processi di Pace, del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell'Università di Siena realizzato insieme alla Cittadella di Rondine. Un itinerario formativo che viene confermato per il secondo anno e pensato per approfondire le tematiche riguardanti le recenti trasformazioni in termini di mobilità, diritti umani, conflitti per poi offrire un approccio ai nuovi strumenti diplomatici e professionali di peacemaking formando professionisti nel campo delle relazioni interculturali, della diplomazia culturale e dell'analisi delle politiche globali. Nel corso dell'anno gli studenti potranno acquisire conoscenze specifiche nello studio della governance globale, come storia, evoluzione dei rapporti internazionali, implicazioni geopolitiche ed economiche e concrete competenze su gestione negoziale, risoluzione dei conflitti e utilizzo delle tecniche di comunicazione istituzionale e dell'informazione. Il piano formativo è arricchito da corsi interdisciplinari e seminari dedicati a temi di stretta attualità, come le crisi delle migrazioni, le questioni dei rifugiati, i conflitti internazionali, questioni relative ai diritti umani e al ruolo delle organizzazioni governative e ONG. Durante la prima parte del master le lezioni si tengono all'Università di Siena. Project work, stage e seminari si svolgono invece presso Rondine Cittadella della Pace. Per i residenti in Toscana si confermano le agevolazioni economiche previste dalla regione tramite Giovani Sì per la frequenza di corsi post laurea. Il bando sostiene infatti l'iscrizione di laureati under 35 e master di primo e secondo livello in Italia, mediante la copertura totale o parziale delle spese di iscrizione al master fino a un importo massimo di 4.000 euro.